Siamo in via Positanesi d'America e andiamo dalla spiaggia grande di Positano alla spiaggia di Fornillo dove c'è anche l'hotel Pupetto. Questa strada è panoramica e durante questa walking tour potremmo piacere una bella vista. Questa strada è panoramica e durante questo tour a piedi possiamo godere di una vista splendida. Grazie a tutti! Grazie a tutti! So, let's go! So, let's go! So, let's go! We are now arrived to the Fornillo Beach! Siamo ormai arrivati alla spiaggia di Fornillo! So, see you in the next video and please like and subscribe! Bye! Ci vediamo allora nel prossimo video e mi raccomando metti un bel like e seguici, clicca su iscriviti! Ciao, a presto! Ciao! 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 Ciao!